Fa prove ero andato da solo e con grandi gruppi, volevo sotto tutti i costi fare anche uno degli 8000 metri in periodo invernale, ero fallito già nell'82 sul Chou Yu e questa volta per gennaio febbraio 86 avevo scelto il Makalou, forse l'invernale più difficile in tutto l'Himalaya perché la via dei francesi sta a nord-ovest, esattamente sul versante da dove vengono tutti i venti dal Tibet ed eravamo soltanto in due alpinisti assieme a questo gruppo della RAI la quale faceva un film, un documentario su questa ascensione. Hans Kamal Andredio, preparando la via parzialmente con le corde fisse, siamo saliti lentamente perché spesso il brutto tempo il vento ci ha spinti giù al campo base verso il Makalou là, da dove speravamo poi di poter fare in volata la salita verso la vetra. Siamo andati su a metà di febbraio, un po' prima, verso questo Makalou là e abbiamo capito subito che oltre il Makalou là a 7500 metri non si poteva andare avanti. Siamo ridiscesi per questo canale stando molto autenti, cauteli perché il vento con una forza oltre i 100 km orari ci poteva spingere via dalla parete. E abbiamo capito, avevamo capito non soltanto per questa settimana, che era impossibile rischiare di più. Non ha nessun senso di continuare. Siamo a 7000 metri, siamo andati su oggi fino a 7500, sperando che sia bello. Ieri era bellissimo, però non abbiamo nessuna chance di continuare e così prefogliamo con questo brutto tempo di rinunciare, non ha senso contro la morte. Dopo il fallimento della spedizione Makalou invernale, ho dovuto un po' cambiare il mio posto. Il programma dell'86 ho cancellato il permesso della parete sotto in Lozze perché volevo fare in autunno l'86 due grandi 8000 in un'unica spedizione, prima il Makalou e poi il Lozze. Per l'autunno dell'86 ho preparato due spedizioni su due 8000 grandi. Per Hans Friedle e me non era necessario allenarci durante la marcia di avvicinamento, per nessuno di noi. Però questa marcia serviva per avvicinarci al campo e per acclimatarci. Siamo in pieno monsone, fa caldo e piove spesso. Da tutta l'estate e fino agli ultimi giorni di settembre, spira il vento costante che proviene da sud-est e da sud-ovest, si carica di umidità sull'oceano indiano e porta continue precipitazioni su questo versante della catena himaleana. Non sembra certo l'epoca ideale per una spedizione alpinistica. Invece è proprio un agosto che normalmente si compiono le marci di avvicinamento alle grandi montagne nepalesi. Così, appena le prime schiarite ci annunciano la fine del monsone, siamo pronti ad iniziare la vera e propria scalata. Cua, essendo una spedizione relativamente leggera, abbiamo con noi quasi tre tonnellate di materiale. Non sono solo le apprezzature alpinistiche, c'è anche un impianto radio per i collegamenti, le macchine da presa, gli operatori della televisione, la cucina da campo, con viveri per almeno due mesi, le bombole di gas e il querosene per cucinare. Tutto questo materiale sarà depositato al campo base del Macalù da almeno 100 portatori necessari per il lungo avvicinamento. Dovremmo percorrere più di 250 chilometri di stretti sentieri che attraversano le valli che precedono le imponenti cime himalayane. Man mano che i giorni passano saliamo lentamente di quota e il paesaggio cambia completamente. Da un ambiente tropicale con fitta vegetazione e alberi altissimi passiamo rapidamente a pietraie dove è raro trovare anche un solo cespuglio. Un lungo avvicinamento prima di tentare la scalata di una montagna alta più di 8.000 metri è per noi di fondamentale importanza. L'allenamento ideale ci permette una graduale acclimatizzazione all'alta quota. Finalmente il 30 agosto dopo dieci giorni di cammino raggiungiamo il campo base ai piedi del Macalù. Mentre iniziano i lavori per il montaggio delle tende diamo un primo sguardo alla montagna. Subito mi accorgo che non ci dovrebbero essere problemi di neve tranne qualche pericoloso accumulo che può provocare una valanga la montagna sembra abbastanza pulita. Ho subito l'impressione che questa volta ho molto più possibilità di raggiungere la vetta. Il Macalù è l'unico 8.000 che ho tentato di salire per tre volte e mi ha sempre respinto.